ciao ragazze e benvenute o bentornate nel mio canale oggi spacchettiamo il calendario dell'avvento 2021 di Yves Rocher che a vederlo così a parte l'apertura che diversa rispetto all'anno scorso si apre in così poi anche il colore la grafica però a parte queste cose devo dire che risulta uguale a quello dell'anno scorso non vedo insomma una novità ecco in questo calendario anche le caselle con i classici numeri sparse a parte i colori comunque la grafica comunque sul verde mentre l'anno scorso era col blu però vederlo così non mi sembra innovativo e comunque anche nel prezzo devo dire che 49,95 anche anche il prezzo è proprio uguale a quello dell'anno scorso quindi vabbè 50 euro quindi se volete vedere questo calendario aperto all'azione vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella lasciatemi di like se questi video vi piacciono io comunque come sempre metto tutti i video dei calendari nella playlist appunto advent calendar quindi lì andate a vedere tutti i miei video che ho spacchettato dei calendari anche quelli dell'anno scorso e poi se vi va commentate giù in infobox fatemi sapere se voi l'avete preso se a voi è piaciuto e soprattutto se lo prenderete niente detto ciò partiamo subito subito comunque come vi ho accenato prima quest'anno il calendario è verde ha sempre questa grafica non so come descriverla però mi ricorda un po' tipo il brasile non lo so questa grafica un po' così con i fiorellini le foglie qui ci sono vabbè delle frasi qui non parla della collezione insomma natalizia di brochet comunque i pack sono tutti fatti in questo modo tutti quelli della collezione natalizia e andiamo a vedere subito la casella numero uno però devo dire che il cartonato anche il cartonato lo stesso non è un cartonato rigido anche stesso le scatoline non è un bel cartonato rigido tipo come quello di sephora super rigido ma molto più basic vabbè 50 euro ci sta tutto speriamo che i prodotti siano validi niente detto ciò partiamo inoltre anche sulle stesse scatoline delle caselline ci sono delle frasi che appunto vi fanno intuire il prodotto che troveremo all'interno c'è scritto sia in francese perché proprio ovviamente i brochet un marchio francese e poi dall'altra parte anche in inglese comunque nella prima casella che apriremo proprio apriamo insieme e questa maschera alla camomilla quindi maschera viso anche l'anno scorso abbiamo trovato mi sembra una maschera di questo stesso formato però è una maschera diversa sì maschera per il viso due volte a settimana lasciare in posa per 10 minuti e poi risciacquare bene ok nel frattempo ho messo il calendario giù in questo modo perché altrimenti sfilando le scatoline sarebbero cadute quindi così tra virgolette vado un po più comoda comunque aia nella seconda casella è uscito praticamente lo stesso prodotto dell'anno scorso che è un su un aceto per capelli ecco da mettere quando si fa lo shampoo niente proprio identico identico a quello questo è da 50 ml credo che sia una mini size nella casellina 3 ho trovato questo latte corpo di questa linea nuova nel senso che l'anno scorso non era uscita se non erro comunque questa è con olio d'argan e la rosa che infatti lo hanno usato e non mi fa impazzire perché si sente di più la rosa che l'olio d'argan quindi un'altra casella un po me nella casella 4 ho trovato questa acqua micellare struccante pelli normali a miste per viso e occhi da 50 ml ok questo ci sta comunque brosci inserisce tanti prodotti di skin care forse più skin care che makeup e quindi ci sta e per quanto mi riguarda è sempre comunque apprezzato trovare uno struccante perché comunque si ecco un prodotto che si utilizza sempre quindi questo ci sta nella 5 invece c'è questo shampoo riparatore sempre da 50 ml sì anche questo lo proverò nella 6 finalmente un prodotto make up ma che non apro perché a parte che rosso ormai ho tanti rossetti rossi questo 56 che non mette a fuoco e comunque però questo è un finish satinato l'anno scorso abbiamo trovato sempre un rosso ma matt e ma quest'anno hanno messo un rossetto satinato che io non amo i rossi che non siano matt non li metto proprio quindi questo ancora con la pellicola questo lo regalerò la mia amica nella 7 troviamo questo bagno schiuma di questa linea che dovrebbe essere proprio la linea del calendario della stessa collezione quindi del calendario e questa cosa comunque mi fa sempre piacere trovare dei prodotti all'interno del calendario che fanno parte della collezione natalizia e questo shower gel profuma all'arancia e cioccolato l'ho appena usato devo dire si sentono entrambi non vedo l'ora di provarlo sono incuriosita da questo prodotto nella casella 8 ritroviamo questi campioncini di profumo questo si cell d'azur eau de parfum 4 ml che se non erano abbiamo trovato uguale uguale anche nello scorso anno comunque l'ho appena utilizzato usato non mi fa impazzire anche questo regalo nella 9 ho trovato questo gel viso di questa linea pure alg che nuova nel senso che non è uscita l'anno scorso qui dice gel detergente ultra freschezza pelli da normali a miste applicare mattina e sera sul viso inumidito massaggiare e risciacquare ok ci piace nella 10 c'è questo scrub per corpo che devo dire per quanto mi riguarda in inverno è sempre apprezzato perché io li utilizzo tantissimo e nella 11 ritornano i campioncini mini mini da 7 ml questo è praticamente un trattamento rigenerante anti inquinamento per tutti i tipi di pelle applicare il mattino applicare solo il mattino va bene nella 12 ho trovato un altro gel bagno schiuma praticamente anche questo è della collezione atalizia quindi la limited edition però questo ha profumo di mora che rispetto a quello precedente all'arancia e cioccolato questo mi piace meno nella 13 altro immancabile del calendario il brochet lo smaltino tra l'altro questo della stessa linea dell'anno scorso però il colore è carino è falsato in realtà in fotocamera è un rosato con una punta di rosso all'interno molto carino questo è un altro colore rispetto a quello dell'anno scorso non metto a fuoco comunque il numero 8 si un ginger bruce si chiama sì infatti è una sorta di ginger rosso con una punta di rossiccia all'interno carino nella 14 troviamo di nuovo a parte pecca leggermente diverso però il nome è sempre lo stesso e la linea è sempre quella è praticamente questo balsamo trattamento riparatore per capelli senza risciacquo si può utilizzare anche come maschera quando si va a dormire per capelli secchi danneggiati applicare su lunghezze e le punte tre volte a settimana cioè praticamente lo stesso che abbiamo trovato l'anno scorso questo è quello che abbiamo trovato l'anno scorso e questo è quello che è uscito adesso tra l'altro entrambi da 50 ml praticamente a parte il pecca di quasi diciamo un po cambiato però praticamente lo stesso prodotto lo stesso identico prodotto di questo vabbè e nella guine ci troviamo questo bagno schiuma della stessa linea di prima con l'olio d'argan e rosa dal marocco che praticamente la stessa linea che abbiamo trovato prima solo che questo è il latte corpo e questo il bagno schiuma entrambe comunque non hanno usando le non mi fanno impazzire nella casellina 16 dopo tante caselle aperte finalmente ritorna il make up questa è una mini matita anche questa l'abbiamo trovata l'anno scorso un col il pack questa è più e matt quindi il pack anche qui sembra cambiato ma sicuramente la formula stessa e queste matite lo provate riprovate non mi piacciono affatto quindi anche questa la regalerò nella 17 ho trovato un altro prodotto da me super apprezzato in inverno tra l'altro anche qui c'è il bufetto vedete quindi credo che sia della comunque di questa collezione ed è un balsamo labbra nutriente alla mora il pack comunque molto carino il lilla viola mi io amo questo colore la mora in profumo che amo meno però comunque voglio provarlo nella 18 ho trovato un'altra maschera viso ma questa volta una maschera rigenerante alla calendula bio sono sempre 30 grammi nella 19 abbiamo trovato lo stesso prodotto di quello uscito prima non ho ben capito questo cosa sia questo ad applicare la notte sleeping care prima di andare a dormire su tutti i tipi di pelle applicare la sera basta non dice altro comunque andrò a vedere sul sito di cosa si tratta anche questo è un piccolissimo campioncino 7 ml prima abbiamo trovato quello giorno e adesso c'è anche quello notte nella 20 abbiamo ritrovato quest'altro un altro l'ennesimo mini campioncino di profumo queste plensole gli rispetto all'altro mi piace un pochino di più però comunque non rientrano nelle mie preferenze tutte cose uguali ragazze praticamente sto trovando tutte cose quasi uguali che ho trovato anche nello scorso calendario nella 21 ho trovato questo latte corpo della linea natalizia e questo non lo apro perché ne ho già tanti aperti comunque latte corpo nutriente intenso al carité per pelli molto secche quindi questo è adatto per me per in inverno quindi questo è un latte corpo non so se l'ho detto comunque latte corpo ok nella casellina 22 abbiamo trovato questo ci avviciniamo alla fine perché anche questo calendario ha 24 caselle questa è una maschera due in uno per capelli quindi l'ennesimo prodotto per capelli troppi prodotti per capelli comunque per capelli danneggiati prima o dopo lo shampoo lasciare in posa e risciacquare quindi questa è la crema non dice quali ingredienti ci sono all'interno vabbè comunque è da 35 ml non so se sia una full size nella penultima casella altro prodotto da me super apprezzato in inverno è la crema mani e anche questo ha la profumazione di arancia e cioccolato devo dire molto interessante non vedo l'ora di provare e infine l'ultima casella si finisce col makeup finalmente con il terzo prodotto di questo calendario del makeup questo è il mascara intense metamorphose non so se faccia parte della insomma dell'edizione natalizia non lo so oppure della linea classica non lo so se voi lo sapete fatemelo sapere in info box comunque è un mascara che promette volume lunghezza e curvatura insomma promette tutto bene non vedo l'ora di provarlo allora adesso non lo apro però lo aprirò più avanti per testarlo ok raga considerazioni finali vi faccio anche la panoramica di tutti i prodotti trovati nel calendario comunque le mie considerazioni finali sono che questo calendario in poche parole povere non mi è piaciuto esattamente il calendario lo stesso calendario dell'anno scorso quindi se vi siete persi quello dell'anno scorso e volete acquistare un calendario di brochet prendete questo di quest'anno perché comunque in fin dei conti a parte qualche pack qualcosa leggermente diverso e anche le profumazioni diverse però cioè praticamente sono usciti esattamente gli stessi prodotti dell'anno scorso non si sente area di makeup in questo calendario ma più che altro di skin care body care di makeup sono uscite veramente c'è tre cose matita rossetto e mascara e in più uno smaltino vabbè c'è solamente tre prodotti makeup e volendo anche lip balm cioè per chi è un amante del makeup come me un appassionata non è un calendario che piace al 100% in definitiva comunque lo consiglio se non avete acquistato l'anno scorso vi consiglio comunque si prendetelo comunque per 50 euro non è che costa tantissimo e poi consiglio lo consiglio fortemente magari a chi amante appunto dei prodotti per la skin care per il body care chi ama le profumazioni e comunque lo consiglio per donne magari un po' più agere se vogliamo probabilmente a loro può piacere niente voi fatemi sapere cosa pensate di questo calendario se soprattutto lo acquisterete a me non mi ha fatto impazzire e sinceramente da tutti quelli aperti finora questo è quello che non mi è piaciuto e mi ha delusa di più niente raga noi ci vediamo al prossimo video vi mando un grosso bacione ciao